Samsung Galaxy S2 Plus è l'evoluzione del Galaxy S Plus uscito nel 2011. In termini di design ci troviamo di fronte ad una rivisitazione del Galaxy S2, vale a dire con un bordo color metallo che gira intorno allo schermo fino alla parte inferiore del case. Sul retro invece troviamo una cover dello stesso materiale del Galaxy S3. A livello hardware resterete pienamente soddisfatti dalle scelte fatte in casa Samsung, processore dual core da 1.2 GHz, 1 GB di RAM ed 8 GB di memoria interna espandibile. A questo si aggiungono i moduli di comunicazione e la doppia fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 2 megapixel. Come si evince dalla scheda tecnica il display non ha la risoluzione di un top di gamma, ma in ogni caso può essere possiamo dire con certezza che la sua qualità ci ha stupito. I colori sono brillanti e profondi, rendono davvero realistiche le immagini e i video visualizzati. Galaxy S2 Plus è uno smartphone concepito per giocare o lavorare in piena produttività, merito soprattutto del sistema operativo Android 4.1.2 che con il suo Play Store potrà soddisfare tutte le vostre esigenze. Trovare applicazioni, libri o musica sarà davvero facile. Il sistema si dimostra stabile e fluido, consentendovi di eseguire più operazioni contemporaneamente senza perdita di velocità. Un device completo e performante capace di soddisfare davvero chiunque, dagli amanti dell'intrattenimento o chi ha bisogno di lavorare al massimo della velocità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.